Un vento a trenta gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campani dietro, a tratti come raffiche di mitra, mi senti grave ai cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi, per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi, per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse e messe uscissero le donne. E guardavamo con le facce e senti la grazia innaturale di me cineschi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. L'inverno con la mia generazione, le donne con il suo interaile vicino ai lupi e vecchie coi rosari. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo interaile vicino ai lupi e vecchie coi rosari. E gli orinari messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione. E studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di cannele e lampade a petroni. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'immunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'immunire. Franco Batiati, un grande sempre.